Buon dia a tutti! In questo nuovo video tutorial mostrò come realizzare questo Bactus con fiore che io ho deciso di chiamare Bactus Red Flower. Per quanto riguarda il filato io ho utilizzato il filato Nuvola che se ricorderete ho già utilizzato nel colore Corallo sempre per realizzare un Bactus. Questa volta ho optato per il colore 04 che è questo colore Rubino, anche se dalla telecamera sembra un po' un rosso acceso, quasi un rosso forse cardinale, ma in realtà un rosso più intenso. E ho utilizzato tre comitoli, anche se nell'ultimo ne ho avanzato circa a metà, lavorando con un uncinetto del 3,5. Come sempre in descrizione vi lascerò il link al sito Uncinettando con i filati, dai cui potete acquistare il mio stesso filato anche negli altri colori. E ci sono veramente tanti colori, c'è ancora il corallo, c'è il verde, c'è il bianco, c'è il nero, c'è il blu notte, quindi potete farlo veramente nel colore che più vi aggrada. La lavorazione è semplicissima, sono quattro giri che vanno sempre ripetuti e va alla trama che si forma, vedete, è un'alternanza di strisce di tre maglie alte con strisce di ventaglie. Io ho lavorato, come vi ho detto, con un cento del 3,5 e ho fatto una Bactus che mi è alto circa 64 cm, lungo circa 128 cm. E a me è avanzato un po' di filato, quindi in realtà voi potreste fare anche un po' più grande ancora, quindi magari riuscirete, secondo me, a fare almeno altri quattro giri, quindi vi viene ancora un po' più larga e ancora un po' più lunga. Vi ricordate e ricordate solo che vi serve del filato per poter realizzare il fiore alla fine, che infatti vedete è un fiorellino molto carino, molto semplice da fare, in tre giri si realizza, che io ho attaccato solo qui alla punta in basso, ma che volendo si può fare anche attaccarlo a queste due punte, solo che io questo preferivo lasciarle così com'è, perché indossando, tirando, avevo paura di rovinare il fiorellino, quindi ho preferito lasciarlo solo qui. Detto ciò, diciamo che anche questo Bactus può rientrare nei nostri progetti facili e veloci, visto che comunque lavoriamo con un cento del 3,5, e anche se è un filato sottile, che poi è morbidissimo e non punge, quindi è perfetto questo filato per i Bactus. Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia, che desiate realizzarla e se così poi mi raccomando, mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncentando con Elsa o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncentare e Sferuzzare, oppure come sempre potete aggarmi anche su Instagram, dove mi troverete sia come Elsa Faccio e se avete acquistato il filato presso il sito o presso la merceria, potete aggarmi anche su Uncentando con i Filati su Instagram. E noi come sempre ci vediamo qua nel prossimo video tutorial. Spero di realizzarne uno prima di Capodanno, se così non fosse vi farò un video, non qui su YouTube, ma sicuramente sui social, per augurarvi un buon fine anno e un buon inizio anno nuovo, sperando che ci riserva qualche sorpresa in positivo rispetto a quest'anno che sta finendo. Detto ciò, un bacio a tutte! Allora, per realizzare il nostro Bactus, io ho deciso di utilizzare il filato nuvola nel colore 04, che è questo filato color rubino, bellissimo, e lavorerò con un cento e tre e mezzo. Siccome però il rosso dà un po' fastidio con lo sfondo bianco, io vi farò vedere l'inizio della lavorazione con quello grigio, in modo tale che si veda meglio quando andiamo a lavorare. Però, ripeto, io lavorerò sempre solo con il colore rubino. Allora, visto che a questo punto andiamo a fare il nostro Bactus e realizziamo un anello magico e all'interno dell'anello magico andiamo a fare 3 catenelle. Quindi, una, due, tre, che equivale alla nostra prima maglia alta. Rientriamo e andiamo a fare altre due maglie alte. Una e due. Chiudiamo l'anello magico. Ci giriamo con il lavoro e andiamo a fare 3 catenelle che sono a nostra prima maglia alta. Quindi, una, due, tre. Catenella di separazione, prendo il filo, rientro nella prima maglia alta e vado a fare una maglia alta. Una maglia alta sopra la seconda maglia alta, una maglia alta all'interno della terza catenella. Catenella di separazione, prendo il filo, rientro nella terza catenella e vado a fare un'altra maglia alta. Bene, quello che faremo da adesso in poi saranno i nostri giri, quindi lo chiamerò primo giro, che poi sono i giri che andiamo sempre a ripetere. Quindi, io mi giro con la lavorazione e vado a fare 3 catenelle che sono a nostra prima maglia alta. Quindi, una, due, tre. Catenella di separazione, prendo il filo, rientro nella maglia di base e vado a fare una maglia alta. Catenella di separazione, vado dove ho le tre maglie alte e vado a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta. Quindi, una, due e tre. Catenella di separazione, vado nella terza catenella, quindi salto la prima e entro nella seconda, che qui voleva la terza catenella della nostra prima maglia alta. E vado a fare una maglia alta, catenella di separazione, rientro un'altra maglia alta. Ho terminato così il mio primo giro. Mi giro con la lavorazione e vado a fare il secondo giro. E realizzo 3 catenelle, una, due, tre, che va alla nostra prima maglia alta. Catenella di separazione, prendo il filo, entro nell'archetto di una catenella e vado a fare il mio ventaglio. Quindi, una maglia alta, catenella di separazione, rientro un'altra maglia alta. Catenella di separazione, vado dove ho le tre maglie alte, realizzo una maglia alta, sopra ogni maglia alta. Quindi, una, due e tre. Catenella di separazione, entro nell'archetto del ventaglio e vado a fare il mio ventaglio. Quindi, una maglia alta, una catenella, rientro un'altra maglia alta. Catenella di separazione, entro nella terza catenella che voleva la mia prima maglia alta e vado a fare una maglia alta. Ho terminato così anche il secondo giro. Mi giro con la lavorazione e vado a fare il mio terzo giro, che consiste nel realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. Quindi, una, due, tre. Prendo il filo, rientro sempre nella stessa maglia di base e vado a fare altre due maglie alte. Una e due. Catenella di separazione, vado nell'archetto del ventaglio e vado a fare il mio ventaglio. Quindi, maglia alta, catenella di separazione, rientro maglia alta. Catenella di separazione, vado dove ho le tre maglie alte e realizzo tre maglie alte. Una sopra ogni maglia alta, quindi una, due, e tre. Catenella di separazione, prendo il filo, vado nell'archetto del ventaglio e vado a fare il mio ventaglio. Quindi, maglia alta, catenella di separazione, rientro maglia alta. Catenella di separazione, prendo il filo, entro nella terza catenella, quindi salto la prima dal basso verso l'alto. È la terza che qui aveva la mia prima maglia alta e vado a fare tre maglie alte. Una, rientro due, rientro tre. E ho terminato così anche il terzo giro. Vedete? Si alterneranno strisce di tre maglie alte con strisce di ventagli. Quindi, giriamo la lavorazione e andiamo a fare il nostro quarto giro, che è anche l'ultimo. Poi si ricomincerà dal primo. E andiamo a fare tre catenelle, che sono sta prima maglia alta. Catenella di separazione, rientro dove ho la prima maglia alta e vado a fare la prima delle mie tre maglie alte. Una, vado nella maglia alta successiva, due, vado nella maglia alta successiva, tre. Catenella di separazione, vado dove ho il ventaglio, entro nell'archetto di una catenella, e vado a fare il mio ventaglio. Maglia alta, catenella, rientro maglia alta. Catenella di separazione, vado nella catena dove ho le tre maglie alte, realizzo tre maglie alte. Una, due, successiva a tre. Catenella di separazione, vado dove ho l'archetto del ventaglio, e di nuovo vado a fare una maglia alta, ventaglio, rientro un'altra maglia alta. Catenella di separazione, vado dove ho le tre maglie alte, realizzo una maglia alta, sopra ogni maglia alta. Quindi una, due, entro nella terza catenella e faccio la mia terza maglia alta. Catenella di separazione, rientro e vado a fare un'altra maglia alta. Ho terminato così anche il quarto giro, e come vi ho detto, si ricomincia da capo, quindi il primo giro, che vi ricordo, era tre catenelle che sono sta prima maglia alta. Catenella di separazione, rientriamo nella stessa maglia di base, facciamo una maglia alta, perché equivaleva quindi al nostro ventaglio. Vedete? Catenella di separazione, una maglia alta, sopra ogni maglia alta, quindi una, due, tre. Catenella di separazione, vado nel ventaglio e vado a fare la mia maglia alta. Catenella, rientro, scusatemi, è che mi devo tirare un po' il filo, perché altrimenti mi si fanno i nodi. E rientro un'altra maglia alta. Catenella di separazione, vado dove ho le tre maglie alte, realizzo tre maglie alte. Una, due, tre. Catenella di separazione, vado dove ho il ventaglio e vado a fare il mio ventaglio di maglia alta, catenella, rientro maglia alta. Catenella di separazione, una maglia alta sopra le prime tre maglie alte, quindi una, due e tre. Catenella di separazione, vado nella terza catenella, quindi saltando la prima in alto e andando la terza partendo al basso, e vado a fare una maglia alta, catenella di separazione, rientro un'altra maglia alta. E abbiamo rifatto il nostro primo giro. Per ripetere il secondo, vi ricordo che si andrà a fare tre catenelle che sono a nostra prima maglia alta, una catenella di separazione, e poi di nuovo il ventaglio all'interno dell'archetto del ventaglio. Quindi questi sono i quattro giri, e come vedrete noi avremo la separazione di strisce di tre maglie alte con le strisce di ventagli. Quindi la lavorazione è molto semplice, molto schematica, se così vogliamo dire, ma con il fatto che lo faremo di colore rosso, secondo me verrà comunque abbastanza elegante da poterlo usare anche su dei vestiti un po' più eleganti. Allora, io ho terminato la lavorazione del mio bactus e mi è venuto alto, quindi dall'alto verso il basso, 64 cm, mentre da una punta all'altra punta mi è venuta larga circa 128 cm. Io non farò alcun bordino sopra né di lato, ma vi faccio vedere una cosa carina che andremo a fare qui sotto. Siccome il nostro bactus ha questo colore molto natalizio, ho deciso nel finale, quindi nella punta, di andare a fare una mattonella, però in realtà non è proprio una mattonella, ma quanto più un fiore che ricorda un po' il fiore natalizio, poi facendo di questo colore rosso verrà veramente molto natalizio. E andiamo a fare in questa maniera, creiamo un cerchio magico, lavorerò sempre con un centro e il tre e mezzo, e all'interno del cerchio magico vado a realizzare tre catenelle che sono la nostra prima maglia alta, quindi una, due, tre, prendo il filo, rientro e vado a fare un totale di 12 maglie alte, quindi una l'abbiamo già fatta, quindi vado seconda, terza, continuo così fino ad avere un totale di 12 maglie alte. Terminate le 12 maglie alte, tiriamo il filo dell'anello magico per chiuderlo e andiamo a fare una maglia bassissima all'interno della terza catenella. Secondo giro, andiamo a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, quindi una, due, tre, prendo il filo, vado nella maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta, 3 catenelle, una, due, tre, e ricomincio da capo, quindi prendo il filo, vado nella maglia alta successiva e realizzo una maglia alta, vado nella maglia alta successiva e realizzo una seconda maglia alta, 3 catenelle, una, due, tre, prendo il filo e ricomincio da capo, quindi vado nella maglia alta successiva e realizzo una maglia alta, vado nella maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta, 3 catenelle, una, due, tre, continuo così per tutto il mio secondo giro. Sto terminando anche il secondo giro, ho fatto le 2 maglie alte, vado a fare le 3 catenelle e poi entro nella terza catenelle iniziale che equivaleva alla mia prima maglia alta, terza e ultimo giro, mi alzo con una catenella, rientro dentro la maglia di base e vado a fare una maglia bassa, una maglia bassa nella maglia alta successiva, prendo il filo, vado nell'archetto di 3 catenelle, realizzo 3 maglie alte, quindi una, due, 3, 2 catenelle, 2, prendo il filo, rientro nuovamente nell'archetto di 3 catenelle, vado a fare 3 maglie alte, una, una, due, e tre, e ricomincio da capo, quindi una maglia bassa sopra la maglia alta, una maglia bassa sopra la maglia alta successiva, prendo il filo, entro nell'archetto di 3 catenelle, realizzo 3 maglie alte, quindi una, due, 3, 2 catenelle, e 2, prendo il filo, rientro nell'archetto di 3 catenelle, di nuovo da fare 3 maglie alte, una, due, e tre, e ricomincio, maglia bassa sopra la maglia alta, maglia bassa sopra la maglia alta successiva, e di nuovo archetto di 3 catenelle, vado a fare 3 maglie alte, una, due, state si è fatto il nodino, due, e tre, 2 catenelle, 1 e 2, ricomincio rientrando e facendo le nuove tre maglie alte, una, due, e tre, allora continuo così, ma quando arrivo all'ultimo archetto, vi faccio vedere come unire il nostro fiore al bactus, allora ho realizzato le 3 maglie alte all'interno dell'archetto di 3 catenelle, adesso devo andare a fare le 2 catenelle, però vado a fare così, vado a fare una catenella, poi mi aggancio dove ho, vedete questa è la punta, in realtà potrei anche, vabbè, mi sono dimenticato di togliere il filo, mi aggancio qui entrando, diciamo nell'anello magico che avevamo fatto, prendo il filo con cui sto lavorando, e vado a fare una maglia bassissima, poi di nuovo catenella, lavorando sempre con il filo, con cui stavo lavorando, e poi vado dove ho di nuovo l'archetto di 3 catenelle, e vado a fare le mie ultime 3 maglie alte, una, due, tre, termina il giro andando a fare una maglia bassissima, all'interno della maglia bassissima, e come vedete abbiamo così unito il nostro fiorellino al bactus, potete fare anche il fiorellino nelle altre due punte, come preferite, io lo voglio fare solo qua sotto, non mi va di fare anche nelle altre due punte, mi piace l'idea di averlo solo qua sotto, quindi si può dire che il mio bactus è terminato, e poi c'è questo, Grazie a tutti